Benvenuti nazionali, oggi siamo qui per i film consigliati del mese, ottobre 2024, cominciamo subito perché è un mese che veramente non ha senso. Cominciamo con domani, 2 ottobre, ma credo sappiate tutti cosa uscirà domani, 2 ottobre, Joker, Follie, A2, il nuovo film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Il comico fallito Arthur Fleck incontra l'amore della sua vita Harley Quinn mentre è detenuto all'Arkham State Hospital. Dopo il suo rilascio i due si imbarcano in una tragica disavventura romantica, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia due mesi fa, anche meno, è un film che ha diviso, tanti dicono è un film che la critica ha stroncato, non è vero. Se uno va a vedersi le critiche che ci sono già, quelle senza spoiler, comunque vediamo una critica molto divisa tra gente che l'ha molto apprezzato e gente che l'ha molto criticato. Sappiamo che è un musical, quindi ragazzi non vi piacciono i musical, i musical, oh mettetevela via, che siamo musical. Passiamo subito al prossimo film, dobbiamo andare in streaming, andiamo in streaming, andiamo su Disney Plus perché il 3 ottobre abbiamo Hold Your Breath, Il nuovo film di Carrie Cruz e Will Jones con Sarah Paulson e Ebon Moss Buckrock. Nell'Oklahoma degli anni 30, nel mezzo delle orribili tempeste di polvere della regione, una donna è convinta che una presenza sinistra stia minacciando la sua famiglia. Allora, questo è un film che ho scoperto, sarò molto sincero, due giorni fa quando ho fatto una lista di film che uscivano a ottobre, però film over Sarah Paulson, già queste due cose mi piacciono, la trama mi siamo interessante, vedremo cosa non uscirà fuori. Spero di vederlo e fare la recensione anche perché adesso vedrete nel giro di 5 giorni cosa uscirà. Cambiamo giorno ma stiamo in streaming perché adesso passiamo su Netflix, cambiamo piattaforma perché il 4 ottobre abbiamo Il Buco, capitolo 2. Il nuovo film di Galder, Gaztelu e Urrutia, Muntixa, la trama qual è? Dopo che un leader misterioso impone la sua legge sul sistema brutale di celle verticali, una nuova arrivata si batte contro il dubbioso metodo di distribuzione di cibo. Questo film è il sequel del grandissimo successo di Netflix, Il Buco del 2018, film che tra l'altro ho rivisto più volte perché a me è piaciuto tantissimo. Il primo, questo sequel, ve lo dico già, questo sequel mi sembra un'enorme cavolata e mi sembra un sequel fatto solo perché il primo ha avuto successo. Spero vivamente di sbagliarmi. Non cambiamo giorno ma soprattutto non cambiamo piattaforma streaming, rimaniamo su Netflix perché il 4 ottobre abbiamo It's What's Inside, i nuovi film di Greg Giardin, la trama qual è? La rimpatriata tra vecchi amici dell'università prima di un matrimonio si trasforma in un incubo psicologico quando un ospite a sorpresa si presenta con una misteriosa valigia. Allora vi consiglio di guardare il trailer perché so che in pochissimi hanno sentito parlare di questo film qua. Guardate il trailer e traete le vostre conclusioni e non mi scelto di dire altro. È un film che dal trailer mi sembra un trip mentale mostruoso. Mi fermo, andiamo avanti. Andiamo avanti perché il 7, l'8 e il 9 ottobre, ripeto, 7, 8 e 9 ottobre, torna al cinema Shining. Torna al cinema per soli tre giorni il capolavoro di Stanley Kubrick in versione integrale senza tagli in 4K. Direi che è un'occasione imperdibile per chi come me ha visto il film ma non l'ha mai visto al cinema o per chi non l'ha mai visto e vuole vedere al cinema, è un'occasione irripetibile. Io Shining l'avevo visto almeno 10 volte, no, ma 7, 8 volte l'ho visto ma mai al cinema perché ovviamente è suonato un po' dopo. Comunque ecco, evento imperdibile. Andiamo avanti di qualche giorno e il 10 ottobre abbiamo Idù, l'ultimo padrino. Il nuovo film di Fabio Grassardonia e Antonio Piazza con Tony Saviglio e Elio Germano. Il film si ispira liberamente ai fatti di caronaca che circondano il criminale Matteo Messino Denaro all'inizio degli anni 2000. Vabbè, Matteo Messino Denaro in realtà è storia anche recente, ha visto le ultime vicissitudini degli ultimi anni e addirittura degli ultimi mesi. Mi sembra un film molto interessante per questo motivo, l'ho consigliato. 10 ottobre, non cambiamo giorno sempre, il 10 ottobre abbiamo The Strangers capitolo 1. Il nuovo film di Ernie Harleen, la trama qual è? Maya e il fidanzato Ryan attraversano gli Stati Uniti per cominciare una nuova vita nel nord ovest pacifico. Quando la loro macchina si guasta a Venus Oregon, i due sono costritti a trascorrere la notte in un isolato Airbnb e durante la notte vengono aggrediti da tre sadici criminali mascherati. Allora, attenzione, perché questo film la trama sappiamo già da 10 anni, anzi da 14 anni. Perché? Perché il film è il prequel di The Strangers del 2008, siamo nel 2024, quindi poca fatica. Però, attenzione, 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 questo film è il primo capitolo di una nuova trilogia. Attenzione, non è un prequel e basta. Un po', vi faccio un esempio, come hanno fatto con gli X-Men, X-Men inizio, giorni in futuro passato, apocalisse, una roba del genere. È il primo capitolo di una nuova trilogia. Certo, spero che non siano sempre, eh, eh, Tok Tok, eh, c'è Tamara, Samara, so che dicono sempre un nome, eh, Tamara in casa, sotto che dicono, e dopo c'è sempre l'invasione. Spero che non sia sempre il solito un invasion, ma penso proprio di sì. Non cambiamo giorno, perché sempre il 10 ottobre abbiamo Superman, The Christopher Reeve Story. Il documentario racconta la storia dell'attore di Superman colpito nel 1995 da una paralisi a seguito di un incidente e morto all'età di 52 anni nel 2004. Quindi, per omaggiare e commemorare i 20 anni della scomparsa di Christopher Reeve, nonché l'attore che tutti riconoscono come il vero Superman, esce questo bel documentario che soprattutto mi sembra molto, molto drammatico. Secondo me c'è da piangere qua, eh. E a proposito di pianti, il 10 ottobre, ma in anteprima il 6 ottobre, quindi 10 ottobre uscita al cinema definitiva, ma in anteprima il 6 ottobre, abbiamo Il Robò Selvaggio. Il nuovo film di Chris Sanders, dopo un naufragio, un robot intelligente di nome Rose rimane bloccato sull'isola disabitata. Per sopravvivere al duro ambiente, Rose lega con gli animali dell'isola e si occupa di un cucciolo d'oca rimasto orfano. Questo film è l'adattamento cinematografico all'omonimo romanzo di Peter Brown e qua c'è da dire una cosa. Eccola qua. La recensione è uscita. Perché? Perché questo film era esce il 10 ottobre, in anteprima il 6 ottobre, ma la prima anteprima, che fa un po' ridere, la prima anteprima di questo film qua era il 29 di settembre e io il film sono attravedendo il 29 di settembre, infatti qua trovate la recensione già del film. Ovviamente non vi dico se il film mi è piaciuto o non vi è piaciuto, andate a vedere la recensione. 16 di ottobre, cambiamo settimana, 16 di ottobre abbiamo Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola con Adam Driver, Jean-Claude Espositor, Natalia Emanuele, Shia Leboeuf, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Jason Schwarzman, la trama qual è? Cesar Catilina, un architetto di New Rome, ha un piano utopistico per ricostruire la suddetta città distrutta da una catastrofe. Il suo sogno però è ostacolato dal sindaco Franklin Cicero, ma la figlia di questi, Giulia, si ritrova presto fra due fuochi, in quanto affezionata al padre, ma innamorata del progettista. Hamilton Crassus III, spregiudicato Magnate, spinge per il progetto del nipote, Cesar, mentre il cugino di questi, Clodio, è ossessionato da Giulia e disposto a tutto per conquistarla. Questo film è stato presentato a Cannes, al Festival del Cinema di Cannes, a maggio, mi pare che fosse il 16 maggio, ma potremmo sbagliarmi comunque a maggio. È un film che... è un film molto travagliato, è un film che... il film di Fab Coppola ci sta lavorando da tutta la vita, praticamente, i problemi del trailer, il fatto dei problemi con le case di produzione, finalmente un film che vede la luce, anche questo film ha molto diviso, lo vedremo il 16 ottobre. Cambiamo giorno, ma soprattutto passiamo in streaming e torniamo sulla grande N di Netflix, perché il 17 ottobre abbiamo Outside, il nuovo film di Carlo Ledesima, la trama qual è? Per sfuggire a un'epidemia zombie, i membri di una famiglia fuggono in una fattoria isolata, ma anni di dolorosi segreti lasciano il segno, mentre affrontano un mondo desolato. Allora, questo mi sembra uno di quei film horror, ogni anno, ogni, ogni anno, c'è la tassa zombie, sia su Netflix, che al cinema, un film sui zombie, lo devono buttare fuori, come un film sui vampiri. Quest'anno abbiamo questo, però mi sembra un film horror sugli zombie, uno di quelli che è molto introspettivo, ma soprattutto che quasi gli zombie possono passare addirittura come metafora per parlare di qualcos'altro. Quindi, questo film sicuramente lo vedrò. Rimaniamo in streaming, ma abbiamo piattaforma streaming, andiamo su Prime Video. 17 ottobre abbiamo Brothers, i nuovi film di Max Barbaco, con Brendan Fraser, Josh Brolin, Peter Dinklage, Glenn Close, Marisa Tomei. Un criminale pentito tenta di rimettersi in carreggiata, ma fallisce quando si rinunisce al fratello gemello che mette a dura prova la sua sanità mentale in un viaggio in macchina attraverso il paese per il colpo della vita tentando di ricucire il loro legame familiare reciso. Allora, questo è il classico film molto giallo, giallo comico che ne escono veramente tanti. Forse è uno di generi più proficuo perché ne escono veramente un sacco di questi generi qua. Sempre la roba di spie e quelle robe lì. Un genere che a me sinceramente deve proprio piacere tanto. Questo film ha un grande cast di più a Brenna Fraser che mi piace tantissimo. Come vedete di quest'ottobre se avrò tempo molto volete e vi lo vedrò. Perché? Perché il 17 ottobre uscirà anche Clean Up specialisti in lavori sporchi. I nuovi film di John Reyes con Jonathan Reyes Myers Melissa Leo Antonio Banderas. Una squadra di addetti alla pulizia della scena del crimine scopre una valigetta piena di soldi e si ritrova inconsapevolmente in mezzo a un conflitto tra mafiosi in una truffa ideata da un boss criminale e gli agenti del governo decisi a riavere indietro i soldi. E ci vi siamo. Ecco qua quello che ho appena detto è un po' giallo un po' trille un po' comico quel genere lì che piace tanto al pubblico. Questo film qua anche qua se avrò tempo lo vedrò avete notato che in un giorno escono tre film si fa anche un po' fatica anche a proprio scegliere quale ma non ho finito. comunque vi consiglio di vedere il trailer perché sembra un film veramente divertente. Indovinate bravi non cambiamo giorno sempre il 17 ottobre abbiamo The Apprentice alle origini di Trump il nuovo film di Ali Abasi con Sebastian Stan e Jeremy Strong la storia di come un giovane Donald Trump iniziò la sua attività immobiliare a New York negli anni 70 70-80 questo film qua direi che la trama spiegata è letteralmente quello che c'è da capire nel film è un biopic molto molto curioso di vedere Sebastian Stan interpretare Donald Trump soprattutto perché è un personaggio e non è una cosa che è un personaggio tuttora vivo 17 ottobre non cambiamo giorno capite perché vi dico se avrò tempo non cambiamo giorno 17 ottobre uscirà Smile 2 il nuovo film di Parker Finn con Naomi Scott visioni inquietanti tormentano la pop star Sky Riley mentre si accinge a intraprendere una nuova tournée mondiale questo film è il sequel di Smile 1 del 2022 dove qui ecco qua dove qui trovate la recensione il film primo mi era io ero guardato 6 e mezzo mi pare 6 più 6 e mezzo non è del genere la sufficienza si apportava a casa mi fa paura tanto questo sequel anche perché durerà 2 ore 12 io pensavo durasse un'ora 40 2 ore 12 vedremo in 2 ore 12 se fare una locopisata del primo cosa che è il trailer mi sembra di sì cambiamo settimana e purtroppo siamo arrivati a quel momento lì 24 ottobre abbiamo Venom The Last Dance il nuovo film di Kelly Marcell con Tom Hardy 5 e 3 G4 dopo gli eventi di Spider-Man No Way Home il governo statunitense dalla caccia a Eddie Brock e a Venom mentre altri sembrionti dallo spazio mandati dal creatore di Venom Clul giungono sulla terra questo film in primis ovviamente è il sequel di Venom La Fubi di Carnage che qua nel canale trovate la recensione è il quinto film del Sony Spider-Verse ed è l'ultimo film aperta parentesi per fortuna chiusa parentesi ed è sul personaggio di Venom interpretato da Tom Hardy di questo film ne ho già parlato nelle due tre le reaction uscite su questo canale che potete trovare su questo canale e vi consiglio di andare a vederli perché sono molto molto divertenti soprattutto la prima 24 ottobre non cambiamo giorno abbiamo Partenope il nuovo film di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta e Gary Oldman il film racconta della vita di Partenope che si chiama tra l'altro come la città antica progenitrice di Napoli la storia si sviluppa in un periodo compreso tra il 1950 anno della sua nascita e i giorni nostri il nuovo film di Paolo Sorrentino molto interessante che ancora una volta ci mostra Napoli è molto molto interessante sicuramente lo vedrò cambiamo giorno e cambiamo settimana 29 e 30 ottobre solo il 29 e 30 ottobre abbiamo Frankenstein Juner torna al cinema solo per due giorni il cult di Mel Brooks che compie 50 anni il film era uscito nel 1974 e devo dire che non vedo l'ora di vederlo perché è un film che al cinema non ho mai avuto l'occasione di vedere visto che nel 74 sono andato nel 98 c'è qualcosa che non va e sono super curioso di vederlo al cinema perché in tv una cosa il cinema è un'altra ci avviciniamo ad Halloween 30 ottobre abbiamo The Substance il nuovo film di Coralie Fargate con Demi Moore Margaret Qualley e Dennis Quaid una donna decide di aderire a un programma che le permette attraverso un prodotto chiamato The Substance di essere a settimana a terra la versione più giovane e bella di se stessa basta non rompere il perfetto equilibrio film che mi sembra molto interessante di cui ne stanno parlando molto molto bene vi consiglio di vedere il tele perché è veramente folle cambiamo giorno e in anteprima mondiale solo il 31 ottobre solo il 31 ottobre abbiamo Perifire 3 i nuovi film di Damian Leone dopo essere sopravvissuti alla furia omicida di Art il Clown Sienna e il fratello Jonathan tentano di ricostruire la propria vita e godersi il Natale l'ospitato clown però torna e ha altri piani in serbo per loro allora ripeto c'è poco da dire è uscito te vi fare uno te vi fare due te vi fare tre uscirà solo il 31 ottobre perché al cinema uscirà il 7 di novembre però c'è in anteprima solo il 31 ottobre quindi chi si vuole passare un Halloween come tra l'altro penso farò io al cinema può farlo perché il 31 ottobre uscirà anche Long Lex in offing di Oz Perkins con Nicolas Cage e Mike Amoro l'agente dell'FBI Lee Archer è una nuova recluta di talento assegnata al caso e risolto di un serial killer mentre il caso prende svolte complesse Archer scopre di avere un legame personale con l'ospitato assassino e deve correre contro il tempo per fermarlo prima che rivendichi la vita di un'altra famiglia trailer che questo ve lo dico già questo è uno dei tre film che mi interessa di più di tutto ottobre perché il trailer è veramente molto molto interessante e ne stanno parlando veramente veramente bene dal trailer si vede già un Nicolas Cage veramente diverso dal solito quindi come avete notato eventualmente uno può anche se il cinema lo permette può anche farsi un bel Halloween al cinema oro perché esce lo stesso giorno sia Long Lex che Terrify 3 ma non ho finito perché il 31 ottobre esce anche fino alla fine il nuovo film di Gabriele Muccino l'ultimo giorno di vacanza a Palermo prima di tornare in California la ventenne Sophie conosce tre giovani e ne diventa amica ma questi in realtà hanno un debito da saldare e decidono di coinvolgerla nell'intrigo che li riguarda nuovo film di Gabriele Muccino quindi sicuramente come si vede c'è tanta passione tanto amore e una visione di Palermo molto molto interessante finito i film sono 22 titoli effettivi sono 20 dopo abbiamo due riuscite perché abbiamo 20 titoli effettivi cioè nuove uscite in più però abbiamo anche Favangesta Junior e Shining che sono due film che riescono per l'anniversario abbiamo 9 9 film more riuscite a questo mese Il Bucco 2 It's What Inside Old The Obrit The Strangers Capitolo 1 Outside Smile 2 The Substance Terrifier 3 Long Legs e volendo c'è la riuscita di Shining che comunque varrebbe anche come 10 è un mese in cui abbiamo sia un film della Marvel che un film della DC perché abbiamo Joker Folia Do film molto atteso e Venom The Last Death che è un film Sony ma comunque è in collaborazione con la Marvel abbiamo un altro film molto atteso Megalopolis e tra l'altro abbiamo diversi film italiani che chiamiamo Iddu Partenope Fino alla Fine e anche un film molto molto interessante che è Robo Selvaggio che per me vale tantissimo ma vale un po' meno perché l'ho già visto in un altro è impossibile non andare al cinema questo mese cioè proprio impossibile cioè soprattutto per gli amanti dell'oro è un mese veramente veramente po' figo scrivete nei commenti cosa ne pensate di questi film quali andrete a vedere quali non andrete a vedere pagina Facebook profilo Instagram iscrivetevi al canale mettete il mio mi piace attivate la campanella notifiche non ce la faccio più ci vediamo a una prossima puntata con il Dalle che dolcetto o filmetto 31 vivi vivi grazie a tutti Grazie a tutti.